Ha riscosso un grande successo l'esibizione del coro toscano Sardos in su coro a Galtellì in occasione dell'anteprima del festival Sosa Rastos de Gracia, una prima assoluta in Sardegna per i cantori del gruppo polifonico di Colle Valdelsa, tutti emigrati o figli di emigrati sardi che nel borgo di Cane al Vento hanno fatto risuonare le loro voci dapprima nelle strade del centro storico dove assiede l'associazione Vokes e Ammentos, organizzatrice del festival e serata nella chiesa del Santissimo Crocifisso. In questi luoghi di suggestioni intense dopo l'esibizione dei padroni di casa la ribalta è stata tutta per gli ospiti. Sei coristi di Galtellì diretti dal giovane maestro Pietro Marrone che guida il Sodalizio dal 2017 con risultati lusinghieri e prestigiosi premi in vari concorsi musicali hanno inaugurato l'ottavo appuntamento con quattro brani, i cantori di Sardos in Sugoro originari di ogni parte della Sardegna e diretti da Eugenio Dallanoce, maestro aretino innamorato del canto di ispirazione tradizionale sarda, si sono esibiti con un repertorio più vasto. E' per noi un onore e un'emozione fortissima cantare a Galtellì. La nostra visita in Sardegna, ha detto il maestro Eugenio Dallanoce, non è solo un tributo alla coralità sarda, ma anche e soprattutto un inno all'amicizia. Sono stati otto i brani eseguiti dal coro toscano che ha rivolto una particolare attenzione al repertorio di ispirazione popolare nuorese, senza tralasciare la tradizionale e sempre emozionante Deus ti salve et Maria. La visita del coro composto dai migrati sardi e figli dei migrati che hanno mantenuto un legame fortissimo con la loro terra d'origine ci rende felici, ha concluso la direttrice artistica Franca Floris.